venerdì 25 giugno 2021 buongiorno a tutti come vedete non sono in studio sono in esterna e per chi riconosce il luogo siamo in Umbria in provincia di Perugia siamo a Colle Valenza nel santuario di Madre Speranza dove oggi parteciperò ad una santa messa con la consacrazione al cuore immacolato di Maria per cui sono impegnato qua e allora non volendo mancare all'appuntamento che ogni giorno ci vede impegnati nella lettura dei giornali la rassegna stampa oggi cercheremo di farla da qua e allora vado nella mia postazione quella che abbiamo realizzato qui proprio nel santuario sotto il santuario allora noi ci prestiamo a dare un'occhiata a questi titoli ai titoli delle notizie più importanti di oggi cominciamo dal resto del carlino saltiamo il tempo perché ovviamente è il collegamento con il bagnino e quindi andiamo subito a vedere i giornali cominciamo dal vogliamo vedere il santo il santo lo possiamo vedere Riccardo ecco così visto che siamo il santo di oggi è San Prospero vedete il sole è sorto alle 5.27 tramonterà alle 20.59 adesso invece andiamo a vedere la prima pagina dei giornali e cominciamo dal resto del carlino innanzitutto diciamo subito che non abbiamo la selezione ma lo sfoglieremo come se fossimo al bar il titolo d'apertura è voglio vedere Amber in carcere a dire queste parole è la mamma di Ismaele dopo il rinvio a giudizio della ragazza la mamma dice lotterò fino alla fine per mio figlio ma centro pagina invece c'è un'altra notizia di cronica importante che è stata diffusa ieri ora devono pagare e qui sono invece i due ragazzi che parlano i due ragazzi che sono stati aggrediti dal branco a Fano alla Rocca Malatestiana sapete la polizia ha individuato il branco alcune persone sono finite in carcere a Villa Fastigi e dunque oggi l'altra notizia importante è appunto questa ora devono pagare riferendosi appunto a questi del branco poi a Fano da Fano un problema che riguarda la strada la strada statale adriatica 16 a Metauriglia travolto mentre getta rifiuti è morto un pensionato di 69 anni e dunque monta la rabbia a Metauriglia a Metauriglia dove lo ricorderete praticamente c'è una protesta permanente con tanto di lenzuoli con tanto di bandiere rosse a indicare il sangue che è stato versato in quel tratto di strada andiamo velocemente a vedere le altre pagine da Pesero, Viale Trieste, movide e polemiche il comune subito un incontro gli assessori Pozzi e Frenquellucci oggi vedranno gli albergatori e i commercianti per cercare un'intesa l'estate non basta 300 eventi presentato il cartellone a bordo del trenino turistico il cartellone è chiaramente quello di Pesero candele sotto le stelle poi c'è anche Rossini Opera Festival la mezzanotte bianca dei bambini e poi tanti altri eventi le altre pagine con la cronaca Ambera a processo deve pagare tutto la mamma di Ismaele non molerò mai dice lei Deborah Lulli continua la battaglia mia figlia anzi mi ha detto brava difendilo tu e io difenderò sempre lo difenderò sempre fino alla fine voglio vedere anche questa ragazza quella ragazza in carcere come gli altri due senza quel suo messaggio quell'SMS non sarebbe stato successo niente quindi non sarebbe caduto come dire in trappola mentre sul pestaggio per lo smalto ricorderete lo smalto quello che portava il ragazzo nelle unghie tre in manette nella gang spuntano anche baby rapinatori alla rocca di Fano picchiarono il 17enne pesarese che si lanciò in difesa dell'amico preso di mira per le unghie per le unghie appunto laccate e il ciuffo anche biondo anche qui una bella operazione della polizia di Fano dopo giorni e giorni di indagini mentre andando avanti sulla pagina 7 del carino di oggi primi vaccini in farmacia anche alle 7 del mattino partenza a rilento nelle farmacie private ma i titolari sono fiduciosi il servizio è importante e da lunedì inizieranno le somministrazioni anche nelle farmacie comunali la fibra ottica in 15.000 case entro l'anno abbiamo fatto un sopralluogo in uno dei cantieri di Open Fiber il manager di Lorenzo dice a Pesaro i migliori risultati di tutte le marche andiamo velocemente a vedere invece la pagina di Fano la troveremo ecco sfogliandola qua la cronaca travolto mentre getta sfalci muore un 69enne un incidente ieri mattina sul ciglio della statale Adriatica all'altezza di Metauriglia la vittima è un ex dipendente delle ferrovie lascia tre figli e da tutti questo uomo giudicato generoso definito generoso amato da tutti praticamente dolore e rabbia tra i tanti amici della frazione di Metauriglia poi pagina 19 cercate la cocaina e la consegna ai militari è stato arrestato un 33enne all'arrivo dei carabinieri in casa ha scelto la collaborazione quindi come dire ormai tanto non c'è niente da fare ecco la coca adesso fate quello che dovete fare intanto pro offerte sessuali sul litorale di Fano ma lei filma tutto e poi denuncia nei guai è finito un tunisino di 40 anni adesso invece andiamo sulla pagina 20 con Cremonini che ha chiuso che ha partecipato al passaggi festival che nostalgia dal palco e poi alla media fermi prima campanella nel 2022 questa è l'altra notizia che troverete sulla pagina 21 del Carlino mentre da Urbino Pieve di Cagna al via la riqualificazione si riparte dall'allargamento di uno degli accessi al borgo e poi Cottini che torna in pista e dice finalmente ci siamo ora andiamo vediamo se riusciamo a intanto cerco di risentire un attimo la regia qua dovremmo esserci senza problemi anche perché la prima volta che facciamo questo collegamento quindi credo che dovrebbe essere tutto a posto allora andiamo a vedere l'ultima pagina del resto del Carlino pagina 24 Ponte di Via Foglia fondi in arrivo per i lavori questa è l'altra notizia ma c'è lo sport forse riusciamo a vedere anche quello con la prima pagina con la prima pagina del quotidiano sportivo da Cittivi vi dico Mancio il top la vigilia di Italia Austria Milena Bertolini racconta il collega parlando appunto del Mancio del nostro Mancio impegnato anche come ben sapete nella promozione indirettamente della regione ma c'è la pagina dedicata alle vicissitudini dell'Alma che non è che sta passando un bel momento ci sarebbe un gruppo finanziario milanese questa è la notizia del giorno che si fa avanti con la proprietà Granata non sappiamo ancora i dettagli ma questo è quello che si evince dall'articolo di questa mattina del Carlino nella pagina 7 mentre sulla vis la vis pesa Rodegrazia nel mirino di Biancorossi oggi è il giorno dell'annuncio ufficiale di Daniele Didonato al Carpi il DS Cangilli segue le finali primavera a caccia degli under il grosso diciamo dell'informazione l'abbiamo visto ovviamente con tutte le difficoltà del caso allora noi ci salutiamo qua ci dà un appuntamento naturalmente domani mattina da studio alle 7 puntuali come sempre vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera appuntamento con l'informazione delle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci a l'informazione a l'informazione a l'informazione Grazie.